Buongiorno o buonasera, questo piccolo video per raccontare un libro che mi è arrivato a casa, che ho amato particolarmente, un libro finalmente non più soltanto scritto come gli altri di cui ho parlato, ma un libro che è un fumetto, una graphic novel, che si chiama Noi Selkman, ed è la storia del popolo nativo che viveva nel sud del continente americano, soprattutto nella parte della Patagonia, del Cile, ed è un libro molto interessante, molto intenso, disegnato e scritto da Carlos Reyes e Rodrigo Elgueta. Entrambe vivono in Cile, a Santiago, avevano già pubblicato anche in Italia, ma in realtà in tutto il mondo, un altro testo, un altro graphic novel, un altro fumetto che parlava della storia di Allende. Questo io l'ho trovato ancora più intenso, ancora più importante, perché senza nulla togliere l'importanza della storia di Allende, di quello che è successo in Cile, della feroce dittatura di Pinochet, diciamo che quantomeno in Italia è molto più conosciuta come storia, mentre la maggior parte di noi non sanno praticamente nulla di uno dei genocidi della storia, uno delle distruzioni che ha portato il colonialismo in terra americana, che è la storia di questa popolazione incredibile che viveva in queste terre considerate inospitali, ma che per i nativi, per gli abitanti erano le terre ospitali e meravigliose appunto della Patagonia, dei ghiacci, della natura incontaminata. Un popolo che viveva in una discendenza matrilineale, dove il profitto era inesistente, dove l'economia si basava sul dono e sulla reciprocità fra esseri viventi, dove la relazione cosmogonica e cosmologica con il vivente era assolutamente orizzontale e non oggettificava tutto quello che lo circondava soltanto per poter creare merci e guadagno. Questo è un testo quindi disegnato con molto però di ricerca anche storica ma con uno sguardo importante sul contemporaneo. Eh sì, perché anch'io quando ho viaggiato e sono stato in Cile, sono stato proprio nelle terre della popolazione dei Selknam, li davo per scomparsi, per estinti. In realtà questo libro ci parla di un popolo che vive ancora, vive ancora ed è veramente affascinante e non voglio svelarvi esattamente quello che viene raccontato in questo testo, ma voglio proprio mettervi la curiosità e la voglia di andarvi a cercare questo libro perché ci racconta appunto attraverso quello che sono gli sguardi del contemporaneo su questa distruzione della terra nativa appunto del Sud America e lo fa con un'intensità secondo me senza precedenti quantomeno per il pubblico italiano. Pubblicato dall'editore Edicola, io vi consiglio vivamente di approfondire la tematica grazie a questo bellissimo libro.